Fratelli e sorelle tutti ben ritrovati, ci prepariamo alla seconda domenica di Avvento. Mediteremo il capitolo primo di Marco dei versetti 1-8. Se domenica scorsa, prima tappa del nostro cammino, ci è stata indicata la meta, verso chi andiamo, oggi la liturgia inizia a sintonizzarci con la solennità del Natale, via che conduce alla meta. Gesù è la luce del mondo che illumina da qui le luci negli alberi e per le strade. Gesù è il dono del Padre, lo dice lui stesso, io vengo dal Padre. Per questo ci scambiamo i doni nel giorno del Natale, per ricordare il dono d'amore che il Padre ci ha fatto in Gesù. Gesù è anche festa, pensate solo alle nozze di Cana, e per questo è bello prolungare la gioia della festa, delle nostre feste in famiglia. Non dimentichiamo poi che quest'anno ricorrono gli 800 anni del primo presepe di Greccio, quando San Francesco volle mostrare alla sua gente il disagio nel quale nacque il Figlio di Dio. Ma ogni Eucaristia e grotta di Betlemme, dove Gesù si fa carne, cioè Gesù nasce per noi. Entriamo allora nel testo biblico di questa domenica. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo. La prima parola con la quale si apre il Vangelo di Marco è la parola inizio, o meglio, archè, principio, fondamento. Archè è anche la parola con la quale si apre la Bibbia, la Genesi, in principio. Ecco, attraverso questa parola l'Evangelista Marco inizia dunque a raccontare una nuova storia, una nuova creazione. Questa parola è Vangelo. Questa parola è lieta notizia. Il Verbo di Dio, cioè Gesù, si è fatto carne. Ed è proprio in Gesù che prende avvio un nuovo inizio per noi, un nuovo principio, un nuovo archè. Come scritto nel profeta Isaia, ecco dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la via. Voce di uno che grina nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. L'Evangelista fa risalire tutta la citazione al profeta Isaia, ma in realtà lui fa un collage, un mosaico, di ben tre citazioni. Il libro dell'Esodo, ecco io mando un angelo davanti a me per custodirti lungo il cammino. Poi il profeta Malachia, manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me. E infine Isaia, voce che grida nel deserto, preparate la via davanti a me. Ciò che unisce queste tre citazioni che vi ho appena richiamato è proprio il termine via, cammino, strada. Parole che richiamano effettivamente un'unica esperienza, quella del popolo che tornando dall'esilio, sotto la guida di Dio, si incammina nel deserto per raggiungere la terra promessa. In questo modo l'Evangelista non solo ci introduce in un nuovo anno liturgico, in una nuova esperienza, ma ci dice anche che quanti si metteranno in cammino a partire da questo nuovo inizio, beh, ci si incammina per andare verso la terra promessa, verso Gesù, meta della vita. L'Evangelista così, ma poi lo ricorderanno anche gli atti, metterà in evidenza che i credenti, i cristiani, sono proprio quelli della via, coloro che si mettono in cammino. Insomma, in questa seconda domenica siamo invitati a metterci in cammino, a metterci lungo la via, a farci riconoscere come pellegrini, quelli della via, che vanno dietro a Gesù, ma per andare incontro a Lui, Re e Signore dell'universo. Il Battista sgombera la strada affinché Dio venga incontro a noi, non chiede tanto a noi di aprire la strada, ma di andare incontro, di sgomberare, perché sarà Dio stesso a venire incontro a noi, non per il nostro merito, ma per la grazia di Dio. Dio ama farsi strada dentro noi se lo accettiamo e gli prepariamo una via, è una via di conversione, una via che possiamo conoscere solo accettando di camminare insieme. Il cammino si apre camminando, non puoi capire che cos'è il cammino se prima di tutto non ti fai tu cammino, non ti metti in strada. solo così la vita si può conoscerla fino in fondo, vivendola, vivendola nell'esperienza del quotidiano, dell'impensato, nell'esperienza dell'inatteso, dell'insperato e il cammino della vita interiore. Marco dunque ci invita a metterci in cammino, a far strada, a fare esperienza. Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto. Il deserto è sempre un luogo di incontro con Dio, ecco dice il testo di Osea, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al tuo cuore, ma nello stesso tempo il deserto è un luogo di tentazione. Ricordati del cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, ricorda il testo del Deuteronomio. Ed è anche un luogo di protesta però. Chiamò quel luogo Massa e Meriva a causa della protesta degli israeliti, perché misero alla prova il Signore, ricorda il testo dell'Esodo. Allora il deserto è luogo di intimità con Dio, è luogo di tentazione, è luogo di richiamo, di protesta. Con la sua presenza, con la sua predicazione, il Battista riapre questa strada e indica la via nuova per vivere questa esperienza, cioè fare spazio a Dio, sapendo che lui solo può far ripartire il nostro cammino. Lui è l'archè, lui sta al principio del nuovo inizio che ci sta davanti. Ed era una testimonianza talmente bella e affascinante che, ricorda il testo, accorrevano a lui da tutta la regione gli abitanti di Giusalemme e si facevano battezzare. È interessante notare come le evangeliste evidenzi che giungevano da Gerusalemme. Ma a Gerusalemme c'era il Tempio, come mai? Andavano dal Battista nel deserto. Si recavano proprio da lui per la novità dirompente che il Battista portava. Non si accontentavano più di riti vuoti, come vivevano nel Tempio. Non bastavano più per dissetare la sete del cuore, per rinfrancare la passione per la vita. È nel deserto che risuona una voce nuova, e il deserto che smuove le folle, che seduce i cuori, che appassiona. Vedete, è l'esperienza che ritroviamo nella nostra stessa esistenza, quando siamo tentati di lasciare la casa della vita quotidiana perché stanchi, demotivati nella nostra esistenza. E così facendo diventiamo però vagabondi se non c'è qualcuno capace di ridare fiato alla nostra esperienza e alla nostra speranza. Talvolta anche le nostre chiese non danno più nulla perché non siamo più capaci di annunciare il Vangelo, di donare i sacramenti. Rischiamo di ridurre le nostre chiese e le nostre liturgie a banali, con tutto rispetto, organizzazioni non governative. Ma ne non siamo chiamati a questo. Siamo chiamati a portare la salvezza di Dio. Se nelle nostre chiese non portiamo più e non doniamo la salvezza di Dio, preghiera, sacramenti, eucaristia, confessioni, allora sì, non dobbiamo lamentarci se la gente abbandona e cerca profeti nel deserto della storia capaci di appassionare e di ravvivare i cuori. Ecco allora quanto è importante ritornare al principio, all'inizio, per cercare veramente di recuperare ciò che è più bello e più vero o da rimproverarti di avere abbandonato il tuo amore di prima. Ricorda da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, ricorda il testo dell'Apocalisse. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi e si cibava di locuste e di miele selvatico. Beh, la descrizione di Giovanni Battista ci dice subito la sua vita essenziale, anche attraverso il modo di vestire. La tunica di pelle richiama in fondo quella che fece Dio all'uomo dopo il peccato. Il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì. È un modo per dire che Dio si è preso cura di Adamo ed Eva dopo il peccato. Dio continua a prendersi cura di ciascuno di noi, come ha fatto con Giovanni Battista. La cintura ai fianchi richiama il segno con il quale Elia venne indicato. Come era l'uomo che vi era venuto incontro? Risposero, aveva una cintura di cuoio, gli cingingeva i fianchi. Quello ed Elia. E per indicare proprio come Marco mette insieme tutto il messaggio dell'Antico Testamento per dire ora si ricomincia da capo, si riparte. Dopo di me viene uno che è più forte, ricorda il Battista. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. Ecco, quanti giungono al Giordano vanno lì per farsi battezzare dal Battista, ma lui segnala che c'è uno più forte di lui, uno capace di amare fino alla fine, uno più forte, capace di vincere il peccato e la morte. Ed è proprio all'invito del Battista che la liturgia ci invita a rispondere nel Salmo responsoriale, subito dopo la prima lettura, proprio in questo modo. Ascolterò che cosa dice Dio. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si bacceranno, i suoi passi tracceranno il cammino. Insomma è una sequela, è uno stare dietro che si fa testimonianza dei cieli nuovi e della terra nuova inaugurati da Cristo e oggi chiedono di essere mostrati attraverso la nostra testimonianza di vita. Ce lo ricorda proprio San Pietro nella seconda lettura. E allora vedete come tutto ritorna unito. Facciamo spazio a Dio, permettiamo a Dio di entrare nella nostra vita, abbattiamo i colli della superbia, permettiamo al Signore di entrare. Non viene per giudicare, il Signore viene per abbracciarci della sua infinita misericordia. Accogliamo la proposta del Battista e dei profeti di oggi che ci invitano a una vita più essenziale, più vera. Lasciamoci mettere in discussione nelle nostre certezze talvolta sbagliate. E allora all'inizio di questo anno liturgico vogliamo veramente chiedere al Signore che ci aiuti a muovere i nostri passi, che ci conceda di attraversare i deserti della storia, della desolazione, dell'aridità interiore, delle ferite che ci portiamo dentro, ferite a volte molto nascoste e camuffate. Pensiamo al deserto delle difficoltà in famiglia, della fatica della fedeltà quotidiana, delle amarezze quotidiane. Oggi questo è il momento e il luogo in cui Dio mi dà appuntamento, mi chiede di lasciarmi incontrare da Lui, fosse anche nel buio più buio. Dio mi vuole raggiungere, perché mi ama, perché Lui vuole aprire e inaugurare un nuovo inizio anche con me. Ecco perché possiamo veramente dire Signore, Maranatà, vieni, io ti desidero, io ti cerco, io ti desidero accogliere, invochiamolo, vieni Signore Gesù, Maranatà. Di fronte a questa parola, così carica di speranza, di gioia. Che cosa rispondiamo? Lo faccio come sempre con due preghiere. La prima è la colletta che riassume il messaggio che ho tentato di proporvi. Ascoltate. O Dio, Padre di ogni consolazione che agli uomini pellegrini nel tempo hai promesso terra e cieli nuovi, parla oggi al cuore del tuo popolo, perché in purezza di fede e santità di vita possa camminare verso il giorno in cui ti manifesterai pienamente nella gloria del tuo nome. Io invece rispondo in quest'altra maniera, ma prima di recitare la priera vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, nelle parole di Giovanni Battista, tu mi inviti a un nuovo inizio, a riprendere il cammino, a non rassegnarmi. Se così è, Maranatà, vieni Signore Gesù, vieni a ridare alito di speranza, lì dove stanchezza, rabbia e delusione hanno preso il sopravvento. Vieni a raddrizzare il mio cuore, lì dove ho deviato dalla tua via per inseguire le mie illusorie vie. Vieni a me, Signore Gesù, perché io possa venire a te, perché sia Natale nel mio cuore e io possa ripartire per un nuovo inizio. per desiderarti, per cercarti, per accoglierti, per invocarti. Maranatà, vieni, Signore Gesù.